A una settimana esatta dalla pubblica denuncia di Sicilia TV e dall'avvio del Real Quiz Transenna Time ancora nessun intervento è stato fatto alla caditoia di Via Fonte Canali a Favara. Diversi cittadini da tempo ci segnalavano la rottura della caditoia e Sicilia TV, come sempre cassa di risonanza della città, aveva realizzato un servizio aprendo anche un concorso a premi. Un concorso che risulta ancora aperto visto il mancato intervento ma affrettatevi, qualcosa sembra smuoversi dal comune. Partecipare a Transenna Time è facile e non costa niente basta inviare una mail all'indirizzo info-siciliatv.org oppure lasciare un messaggio vocale al numero 0922 17 56 126 risponderà una voce di segreteria. Messaginette. L'utente chiamato non è al momento disponibile. Si prega di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Subito dopo lasciate il messaggio indicando la data prevista per l'eliminazione del pericolo. I concorrenti devono includere anche nome, cognome e un recapito telefonico. Pena l'esclusione. In palio uno smartphone LG L40 completo di scheda telefonica per un valore di 99 euro offerto da Vella Elettrodomestici di via San Bartolomeo a Favara. In caso di più risposte esatte verrà decretato vincitore il concorrente che ha risposto per primo. Il concorso è valido sino alle 24 ore precedenti, all'inizio dei lavori in via Fonte Canali. Si può giocare una sola volta, quindi chi ha già giocato non può più farlo. Esclusi dal concorso sono ovviamente sindaco, assessori, consiglieri comunali, dipendenti del comune di Favara e figli e o parenti prossimi agli addetti che si occuperanno della riparazione o che affideranno l'incarico per l'espletamento della stessa. Partecipa anche tu a Transenna Time, vinci uno smartphone e diventa protagonista della notizia.